In occasione della giornata mondiale della sclerosi multipla di domani è tornata la gardensia, simbolo della lotta contro una malattia che può essere sconfitta solo mediante la ricerca. 200.000 le piante di gardenia distribuite da 13.000 volontari nelle principali piazze di tutta Italia. Ad oggi dico che la sclerosi multipla è una malattia invisibile ma è molto diffusa, soprattutto nei giovani. Quindi il mio invito veramente è che tutti riusciamo ad essere parte integrante della nostra città anche facendo volontariato. Quindi chi vuole avvicinarsi la nostra sede Aism è in via Ossidiana 25. Io ci tengo a ringraziare la popolazione gelese che è sempre stata al nostro fianco e veramente abbiamo sempre portato degli ottimi risultati. Saremo presenti sia oggi che domani nei vari punti della città come questa mattina a piazza San Giacomo, ospedale, Crai via Palazzi, Sisa via le Corte Maggiore e in via La Paz. E poi stasera e domani saremo nei vari punti della città come parrocchie e anche ai muretti di Macchitella. A Gela i volontari dell'Aism con il supporto dei ragazzi della Gesci Gela 3 hanno allestito uno stand in piazza San Giacomo per distribuire le gardenie in cambio di un contributo per sostenere la ricerca. Noi cerchiamo di far capire ai nostri ragazzi il valore della solidarietà, il valore del volontariato. Per questo che siamo qua stamattina a dare il nostro contributo affinché in tanto questa malattia venga definitivamente sconvitta attraverso la ricerca e attraverso questa raccolta di fondi. E poi per portare avanti quello che è un mandato che come scout il nostro fondatore ci ha lasciato in eredità, cioè quello di lasciare il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. E noi cerchiamo di fare veramente del nostro meglio attraverso i nostri ragazzi affinché loro possono crescere con questa mentalità, con questi valori positivi di solidarietà, di volontariato e di attenzione verso i bisogni degli altri. Un impegno importante e un valore da perseguire per i ragazzi che nutrono un grande spirito di solidarietà e partecipazione al fine di sconfiggere una terribile malattia di cui ancora non si è trovata la cura. Siamo qua a fare una raccolta fondi per la ricerca contro la sclerosi multipla perché molte persone si ritrovano ad avere questa malattia e non poter muovere più gli arti. Noi dovremmo aiutare queste persone perché una nostra legge aiuta il prossimo in qualunque situazione. Insieme Più Forti è l'hashtag dedicato all'iniziativa per sostenere la ricerca scientifica e garantire servizi per le persone con sclerosi multipla nel territorio. L'invito quindi è quello di recarsi in Piazza San Giacomo per contribuire all'iniziativa o effettuare una donazione chiamando il 45 512 perché insieme si può fare la differenza.